Erano amiche da tempo ed entrambe, secondo i conoscenti e amici più stretti, erano brave e sane ragazze, due concittadine che la comunità di Calcinelli di Colli al Metauro ricorda stretta nel dolore. In via Villa Franca, questa mattina alla serranda della parrucchieria dove Sonia era la titolare, è chiusa all'ingresso un omaggio floreale a ricordare la persona generosa, solare ed altruista, descritta così da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla. Sonia, 34enne, aspettava ancora di conoscere un suo futuro compagno, ma recentemente aveva deciso di dare una svolta alla sua vita rendendosi più indipendente. Da poco infatti aveva acquistato casa non molto distante da quella dei genitori, una nuova avventura che per lei era molto importante e che fino all'ultimo l'aveva raccontata anche ai suoi clienti. Elisa, 43enne invece, era un'insegnante elementare dell'Istituto Comprensivo di Monte Felcino con sede a Tavernelle, insegnava storia, geografia, amava i bambini ed era andata a vivere da sola con una cagnolina di nome Milù. Secondo i colleghi di lavoro era una persona attenta agli altri, simpatica, solare e appassionata della vita e piena di interessi, tra cui il ballo e la cucina. Due vite spezzate, così come i sogni e le speranze di vita futura per le due giovani donne, da un incidente stradale provocato da un'auto condotta da Massimo Renelli, 47enne autotrasportatore di Senigallia, conosciuto come gestore del circolo Acli di Cannella. Secondo i soci, aveva abbandonato il camion per stare vicino ai due figli, quando nel 2017 aveva preso in gestione il circolo. La comunità di Colli al Metauro si è stretta alla famiglia delle vittime, dove il sindaco Guzzi ha espresso il proprio cordoglio. C'è una forte recrudescenza in questi ultimi periodi di questi fatti molto gravi, causati dall'imperizia, dalla disattenzione, dall'abuso di alcol. Ecco, io credo che più attenzione creiamo su questa questione e più servizio facciamo alla collettività. Quindi questo lutto cittadino vuole essere una vicinanza alle famiglie, indubbiamente, ed innanzitutto, ma vuole essere anche un porre l'attenzione su un problema che è sempre più evidente.